La voce è alta Martina Ok, a posto Ha fatto bene Martina? Sì Predicato nominale? Le rondini sono nere Ok? Vai E segui l'analisi grammaticale Le Articolo Determinativo Femminile Plurale Lo scrivi l'abbreviato pure Ok Ok Vieni Grazie. Cucinelle, nome comune di animale femminile e plurale. Grazie. Grazie. Sono il verbo essere. Tempo. Tempo. Presente. Tempo. Persona. Allora, sicuramente. Tessa, persona plurale. Perfetto. Tempo. 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 un po' al piccattivo 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 un po' al piccattivo